Se studi fuori sede mi rivolgo a te. Per la prima volta per le elezioni europee dell'8 e del 9 di giugno potrai votare senza dover tornare nel tuo comune di residenza. Questo è anche il frutto della battaglia di voto dove vivo e che è stata appoggiata dal Partito Democratico. La continueremo perché è un diritto sacrosanto che va esteso anche a lavoratrici e lavoratori fuori sede. Farlo è molto semplice. Bisogna scaricare sul sito del Ministero dell'Interno un modulo e inviarlo anche via mail al tuo comune di residenza per chiedere di poter esprimere altrove il proprio voto. Non c'è poco tempo per farlo. Avete soltanto fino al 5 di maggio. Mancano pochi giorni. Non perdete questa occasione. Le elezioni europee dell'8 e del 9 di giugno sono cruciali per tutte le sfide su cui ci giochiamo il futuro. Vale per il contrasto all'emergenza climatica, la giustizia sociale, il contrasto alle diseguaglianze, l'innovazione. Vale per il contrasto all'evasione delle grandi multinazionali e quindi non perdete l'occasione di fare la vostra parte perché se non ci occupiamo di politica la politica si occuperà comunque di noi. Per costruire l'Europa che vogliamo iscrivetevi e partecipate. Grazie. 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 Grazie.